Colori e profumi di fiori e piante da venerdì 12 a domenica 14 aprile inonderanno il porto turistico Marina di Pescara dove si terrà la 43esima edizione della mostra del fiore Florviva. Nel corso della presentazione dell'evento alla stampa ospitata dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara, il presidente vicario dell'ente Lido Legnini e Guido Caravaggio e Remo Matricardi, rispettivamente presidenti di Assoflora, l'associazione dei produttori e florovivaisti abruzzesi e dell'ARFA, l'associazione regionale Florovivaismo Abruzzese, hanno ricordato come la manifestazione sia diventata nel corso degli anni una straordinaria vetrina per la floricoltura e il vivaismo abruzzese. Saranno 213 gli espositori presenti nel padiglione Daniele Becci provenienti da 15 regioni italiane, i quali nel corso della tre giorni saranno impegnati nelle diverse iniziative in programma, convegni, corsi di arte floreale, seminari tecnici, resital di poesia e laboratori pratici, un concorso per la realizzazione di un'area verde nel centro della piazza espositiva e una sezione dedicata allo street food. Quest'anno i parchi e le riserve attraverso la cooperativa Cogestre sarà presente lì alla mostra del fiore e avremo quasi un terzo di tutti gli aziende che sono là, sono del settore del florivaismo, delle piante e fiori, quindi è tanto. Ci saranno dei corsi tematici, ci saranno due tavole rotonde che parleranno sempre del settore e quindi penso che siamo diventati un qualcosa di riferimento per tutti. Manifestazione come dire di rilievo del settore in tutto il centro sud Italia, poi in questa location stupenda che è il padiglione Becci all'interno del porto turistico dove prossimamente ci saranno anche tante altre manifestazioni, un settore su cui noi stiamo puntando tanto. Le 250 aziende abruzzesi attive su 385 ettari di territorio danno lavoro a oltre 2500 addetti e generano un valore di oltre 50 milioni di euro annui. La nostra regione, in particolare sulla fascia costiera, ha un clima che permette la produzione e la coltivazione in vivaio di numerose specie, parte ormai dagli anni 60 e questa storia nel tempo si è affermata attraverso le nuove generazioni, attraverso le nuove tecnologie e gli investimenti che nel tempo si sono fatti e che hanno consentito al nostro settore di emergere come realtà e come distretto nell'ambito nazionale e di avere anche delle eccellenze con la conquista di mercati esteri. Grazie.